l'8 marzo il senso di una festa ancora una giornata importante per le donne questa è importante ancora ancora un senso oppure continuerà da verlo continuare da verlo vivendo soprattutto le donne sulle quali grava il peso maggiore abbiamo fatto la riforma del mercato del lavoro siamo intervenuti sulla conciliazione abbiamo dato strumenti alle donne per rendere effettivamente esuggibili permessi anche permessi ad ore per poter conciliare i tempi di cura e tempi di lavoro è 70 anni che dico un panziero sulle donne io l'ho capito da mio padre è stato mio padre che mi ha insegnato che non esiste nello sport un maschio e una femmina esiste un atleta ci sono donne maltrattate violate in ogni parte del mondo aumenta la violenza in ogni parte del mondo va a destra così su due piedi certo che ha senso arrivederci guarda i i Grazie.